bella 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 a tutti ragazzi siamo qui in un nuovo video su cat mario pronti a sclerare allora iniziamo questo gioco molto famoso per la sua fama diciamo di gioco rompipalle vedremo cosa succederà tipo 33 secondi di video già bene vai così vai così allora qua c'è il cubo malefico allora porca puttana capitana 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 allora cazzo però qua saltiamo non si sa mai allora lì c'è il cubo che mi blocca quindi così vai mamma mia che culo allora andiamo andiamo no porca allora però andiamo no porca p***a allora però porca p***a vai oh alleluia no no ma dai ma vabbè ma vabbè a 3 No, 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 no No, 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 è così lì? No, no, è così lì in boxicola No, no, è ispiri qui Lo t olmaz No, è così lì No, è così lì no, è così lì mamma mia come malisciato l'unico modo o caso sta per breve allora più in là possibile bene mamma mia mamma mia un live primo livello con gli altri non voglio sapere meno 12 persone civite non voglio neanche sapere cos'è sta roba ho capito tutto ho capito tutto bene ma va ma va ma va no 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 non è possibile 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 sì sì si se ne scappa un altro mamma dai ma va fan cioè non ho fatto neanche in tempo inizia ma va dai ok allora il fungo non c'è a prenderlo bene ma sei tronzo allora non 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 mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia vai mamma mia 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Allora, il video per oggi è finito. Lasciatemi un commento sotto il video in cui mi consigliate i videogiochi da provare per il PC mi raccomando. E per questo video è tutto bella. Allora,